Domenica di festa per la famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, riunita in occasione del battesimo della figlia Matilde nata lo scorso 3.00 La coppia ha condiviso su Instagram alcune immagini del rito religioso e poi quelle del pranzo che ne è seguito presso un ristorante veronese a cui hanno partecipato i parenti più stretti e Protagonista della giornata è stata naturalmente la festeggiata, celebrata anche dalla grande torta alle fragole con la scritta bra Tutti gli sguardi di mamma e papà sono per la piccola, ripresa nelle foto ma sempre debitamente nascosta in volto per accortezza dei suoi genitori che da subito hanno scelto di tutelare la sua pra Qualche giorno fa la campionessa di nuoto ha voluto mostrare sui social il suo fisico a 4 mesi dal parto, nessun messaggio a corredo della foto, solo un hashtag, cancelletto piano piano Qualche giorno fa la campionessa di nuoto ha voluto mostrare sui social il suo fisico a 4 mesi dal parto, sto cercando di vivere a pieno questa avventura incredibile, perché dicono che poi questi momenti sono fortunata perché lo posso fare e questo non è scontato Aveva raccontato tempo fa la neomamma, al settimo cielo per una maternità tanto desiderata insieme al marito Matteo Giù Sono fortunata perché lo posso fare e questo non è scontato